Don Angelo Ventura, quale sensazione prova attualmente a poche ore dal suo nuovo incarico, dal suo nuovo insedimento nella parrocchia di Pietra Persia? Certo, è un'esperienza nuova per me. Da otto anni quasi che sono sacerdote sono stato viceparroco prima i primi due anni e mezzo nelle parrocchie di Niscemi. Cinque anni sono stato in Chiesa Madre sotto la guida sapiente e vigilante di Monsignor Alaviso che è stato il mio maestro alla quale ho appreso tantissimo e adesso mi sento pronto, attraverso quella che è la volontà di Dio che si manifesta attraverso la voce del Vescovo, mi sento pronto a poter affrontare questa nuova esperienza che diventa un'esperienza di paternità spirituale. Adesso l'incarico di parroco mi chiama a una guida molto più puntuale per essere molto più attento a quelle che sono le problematiche del contesto in cui sono stato inviato per essere attento al servizio ai poveri e soprattutto a quella che è la fascia meno agiata che sono i malati e nell'esperienza della guida dei giovani che sono il fondamento e il principio primo di quella che è la società per vivere l'esperienza ecclesiale all'interno di un contesto che per loro diventa familiare e che poi è espressione concreta di quella testimonianza del Cristo che si manifesta nella loro vita. E qui di Gela a Pietro Perzia cosa porterà? Certo, di Gela porto tutto quello che è la novità e la vivacità della nostra città e quindi il cercare di poter portare quell'entusiasmo che io ho potuto maturare attraverso questi anni di servizio qui a Gela e adesso penso soprattutto con la grazia e con l'aiuto di Dio di poter sostenere quelle che sono le fatiche del ministero di accettare una volontà che a volte non è semplice però inserita nella storia di Cristo diventa storia di salvezza questa è la speranza che mi aiuta e che mi incoraggia nel cammino per andare a cercare e a vivere il servizio. Ecco lei parlava poc'anzi di Monsignor Labbiso che ha lasciato e lascia un ricordo interebile per lei che esperienza è stata? Certo, per me è stata un'esperienza di formazione forte io sono cresciuto e nato in Chiesa Madre e poi la provvidenza ha voluto che gli ultimi cinque anni della sua vita di servizio pastore in Chiesa Madre e della mia esperienza sacerdotale la vivessi in stretto contatto proprio con lui e da lui ho preso moltissimo anche l'attenzione a quelle che sono le fasce più meno agiate, i poveri l'attenzione a quelli che sono i diritti dei lavoratori quelli che sono i diritti fondamentali di ogni uomo e questo è quello che porta anche se lui era molto fermo nelle sue decisioni la cosa che ho potuto apprendere è l'amore alla Chiesa lui amava tantissimo la Chiesa e mi diceva sempre di poterla servire e sempre di potermi rendere disponibile a quel che è il servizio di Dio attraverso l'openato dei fratelli e la cosa bella che è tale tantissime cose che ho appreso è il servizio ai poveri